musica 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 eccoli vai che si comincia si comincia black ops nooo ormai colore di mutti pure e percorso uo wow adesso c'è la sensibilità giù io tengo la no 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 simo no 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 nato fuori questo è mio qua non c'è il salto con lo si si quello c'è c'è simo no no quello che ti butti strisciando eh ehm niente salto vabbè ma se devo fare tutto io allora ditelo quanti ne hai uccisi te? quattro eh in effetti sono proprio quattro no no aspetta allora io non so chi sono mazzo è il cinese nooo simo è l'americano io sono il russo tu sei nicolai non muore mai grande io volevo il russo godo quattro a che livello partiamo usciamo apriamo quattro ma in effetti potrebbe veramente andare via quattro io sono il più forte però non credo minchia sto xinzao oh granatella tanto ah si tra l'altro allora siamo io mazzo e simo su cod intanto sentirete una terza una quarta persona che è su lol strano che siano quattro le persone tra l'altro si ma l'altra proprio non c'entra niente cioè non sanno chi è e ah perché sanno chi sono io cioè a te ti hanno sentito di sicuro qualche volta sì anche nei video di mazzo sei nominato come lo scemo ah ah è vero guarda che ce l'ho capito eh ma non ho capito dove ho stardito eh dimmi j sono anch'io tu quando sei stato nominato eh c'ho la pentachill ah è vero c'ho la pentachill ah è vero c'ho la pentachill ah lui c'ho la pentachill lui c'ho la pentachill di graves lui c'ho la pentachill di graves andatevela a vedere e ne ho un'altra anche e allora mandamela te l'ho già mandata allora non l'ho vista no eh 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 ma c'erano i punti doppi eh ma va livello 3 rimorzare un po' l'audio della tv se non ho senso se arrivano gli zoppi eh infatti anch'io un po' eeeeeee chi è chi no ma avete fregato un no 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 si no ti tagli chi è stato no c'era la bomba volevo prendere la bomba non vado è bagato è bagato ho preso io ho fatto il passato il passato il passato il passato il passato non gli zombie in black ops fa schifo anche quello qui c'è il trucco c'è magari allora intanto facciamo questa poi al massimo facciamo anche quell'altro no 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 non hai capito dai io apro ok punizioni scarsette oh eh allora vedi che potevamo anche arrestare eh ho capito ma cosa ne so io che vengo alla munizione adesso è difficile oh stg 44 guarda il trucco eh stg beh bello tu si tu si vai eh l'avete lasciato da solo tu si che hai studiato mazzo l'avete lasciato solo ma strano no due ore che diciamo che ce ne andiamo ti sento da lì eh le max ha un modo dove l'ho preso eh certo le potevi andar via poi un'ora fare tra l'altro infatti sei minuto eh non so come salvare massimo quale ci sono eh erano mille mi son girato ma non credo aspetta che faccia i conti ne ho uccisi 31 quindi come mille massimo saranno stati 27 dato che al primo livello ne avevo uccisi 4 però c'è un problema mi si è bloccato il ped non hai l'arma no mi sa che sto lanciando una scimmia sei un deficiente perchè avrai finito i colpi sicuramente ho bloccato eh vabbè allora siete proprio stupidi ma guarda dove ero andato a finire sei caduto di sotto hai no ero andato lì dietro non mi ricordo più dove devo andare su di qua ma perchè no ho capito ma ero andato qui ma vai suicidati cosa ti giocati dai no viti tanto sei lì no ho lanciato la scimmia dai la scimmia no dove ero lanciato dove sei incastrata dove sei incastrata non sono neanche uno oddio mai vista mai vista questa nuova chi è che ha fatto sta roba tirate fuori l'arma poi tanto vi proteggo no succedi no e j possiamo evitare di dire queste cose dai dato che poi il video oh il coltello coltello che va da più soldi forse è il caso di sparare però quando sono tipo quindici quindici e forse anche quattro oh ma lagato vabbè oh allora proprio c'è sei già morto tipo tre volte eh c'è ci sono ancora le istantanea se volete le piglio le piglio tarati taradà diridai 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 fate ridere soprattutto mazzo oh questo si era bloccato aspetta mazzo guarda come aspetta fermo tu nessuno rompe e non si dice i baloni alla minaccia rossa simon suicidati vai vediamo se mi riesci vai 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 orsacchiotto il primo cioè il prima volta che ci provo orso no cioè sto gioco c'ha 5 anni e lo zombie più bello è ancora qua l'unico dlc che andava davvero comprato minchia veramente no allora shinonuma mi fa schifo ma vero te ne sapeva un sacco no c'è paris una cosa che è diviso in due però dovevi saperci giocare a shinonuma era più cattiva era più divertente era un po' incasinata con le trappole e comunque questa partita la metti su te la registri tutta quale questo qua che sto facendo tu si metto su una tua partita due ore dai soldi devasto devastando tutti ci sono 4 a 0 addirittura non saranno troppe perchè io sto per finire i colpi veramente dove va la cassa è sul balcone la cassa è sul balcone fai lo zoppo dai neanche quello si fa ah god neanche quello si fa ahahah allora no qualcosa lì non fa gli zoppi smettila 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 muore eh vabbè allora sei deficiente allora sei deficiente sei alzoppato voi li avete sparato no ma quel coso lì è una bomba atomica a livello 6 non puoi sparargli in faccia cani meglio dai uso la ppsh meglio una cippa perchè io ho un'arma di assenza ma la tanta roba ma il psh è devastante migliore amico di diavolo guarda che vengo da te sino eh uno sta venendo da te stai nell'angolo eh bravo stai a destra mazzo che lì vediamo se vengo da me da te no non di lì dall'altro lato io ho capito a sinistra cioè era la mia a destra migliore amico del diavolo 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 grazie ah boo oh simon sta buttando i soldi nella cassa ah beh vabbè ma ti devo ficitarmi cioè quello è il mio lavoro eh bravo oh no qui mazzo sparo sparo mi uccideci tu oh dio C'è tre tutti insieme Ho visto, ricaricate Poi gli altri due ho fatto fatica Ricaricate Per me puoi andare Ma se qualcuno chiappa Se qualcuno Chiappo io, vai tra Tanto salta in questo gioco Tra l'altro salta sempre uguale Sì Tipo in Mv3 mi sembra un Mv2 Si stagna V3 di sicuro V2 non lo so Sì salta Sì, stai a sinistra e spara quelli a sinistra Io sto adesso Mazzo, sei inutile Io spara tutti Ecco, spara però Eh, ricaricavo Eh, proprio nel momento che devo ricaricare io Sì, stai arretrata Tigliala dai Tigliala, fai lo zoppo Fai lo zoppo con lanciapatati dai Io adesso dovrebbero rimanere un po' Come non ce l'hai più? Va bene Sprecato tutto Faccio io lo zoppo con la granata Fermi tu Cioè non c'è nessuno Lo attiro io, lo attiro io Ce l'ho, ce l'ho Ce l'hai cosa? È un po' veloce però Ne faccio un altro Aspetta Se arrivasse qualcuno Vabbè, veniti qua, mazzo Ah, eccolo qua Aspetta, ve lo zoppo Oh Oh Eh Non so Vabbè, vabbè, c'è solo lui, mazzo E' lentissimo No, ne ho altri tu e io Tra l'altro Ah no, qui non ti puoi muovere strisciando Infatti dicevo perché No Spara, girati e spara Ce l'hai dietro, Simo Ce l'hai dietro Oh, sembravano finiti Eh no Non si rompono il colgno Sì, ora sì Occhio a non morire troppe volte Ma qui è aperta, la cassa è sotto? Ah, è qua sotto Allora vieni chi, dai Suicidati, molto Vedi un altro dopo qua Eh, se è veloce uccidio No, è lento questo È sopra, nel piano di sotto Ma devi provare a me Sì, dopo, prima suicidati Chi c'è i pochi punti Ma com'è che si faceva, non ricordo Apri Inizia a curare, molli e schiacci No No Non lanciarla granatalissimo Che palle sta connessione Perché c'ho 1300 di bimbo Cos'è, già l'orso? Deve essere scivolato Sì, sì, certo che se fai 100.000 casse Continuiamo a metterlo Lo fatti tre Eh, tre di troppo Ho avuto Tanto si diceva una era uguale, capito? Ah, una era una di troppo Eh, su B, dai, venite qui Vedo, sì Ma su B, a lei anche dominio qua Sul balcone, sul balcone Dai Dai, ti faccio suicidare al chiaro di luna Sì, vai È anche romantico, muovi Aspetta che sto morendo qua Ma contro Kiki non c'è nessuno Che era uno zombie C'era due po' Dai che non possiamo metterci sei ore e mezza tutte le volte Io sto tenendo lo zoppo Cimie Ti verrà una volta E che cazzo Che palle Stai diventando rosso Forse meglio che un uomo E' morto Che stupido Vabbè Ma che cazzo fessi Cazzo, fallo tu